ciao a tutti ragazzi il protagonista di oggi è simone perilli portiere del pordenone andiamo subito a vedere quella che è stata la sua parata e poi andiamo a scoprire quelli che sono stati i suoi segreti eccolo qua perilli un tiro dal limite dell'aria grandissima risposta andiamo a rivederla vediamo appunto l'attaccante del bassano che tira fuori dall'aria perilli messo benissimo guardate cosa fa adesso eccolo qua è stato il passetto più il tuffo che ha permesso a perilli di arrivare su questa palla che aveva una traiettoria super velenosa e fare una grandissima parata purtroppo ragazzi qua oggi impariamo una lezione importante per noi portieri ovvero che anche quello che è il più grande intervento delle volte non finisce bene qua sotto potrete vedere quelli che sono stati i cinque passaggi fondamentali per poter capire come replicare questo tipo di parata io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao